E la domanda che dobbiamo farci è proprio questa. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? La fedeltà tratta di una coppia di 35 anni che vivono a Milano, una coppia viva e vivace che lentamente scopre di avere qualche incaglio. Mi sembrava che contenesse molte ambiguità, a partire però da un terreno felice, quindi il fatto che contenesse questi contrasti per me è stato subito un elemento molto seduttivo. Io sono inopportuna. Carlo, tu sei inopportuno. Tu e le tue cazzo di lezioni frontali, individuali, come cazzo si chiamano con le ragazzine di 20 anni. Il tema della fedeltà, il tema dell'amore, il tema della vita di coppia rende questa storia universale. Un tema che ti offre mille possibilità di lettura, mille chiavi di lettura. E noi abbiamo optato per quella usata nel romanzo di Missiroli. La serie è adattata da un romanzo di Marco Missiroli e alla lettura di fedeltà ho detto ecco, finalmente è possibile creare un racconto seriale avvincente. Il romanzo era molto attento a raccontare l'interiorità dei personaggi. Il linguaggio di sceneggiatura invece è tutt'altro. Deve portare fuori le azioni e le emozioni dei personaggi. Perché tutta la serie ha a che fare con sentimenti, umori, insoddisfazioni e felicità che montano un po' alla volta, che non sono immediatamente manifeste. La serie vuole mettere sotto una lente di ingrandimento quelle che sono le dinamiche di coppia, di una coppia moderna che vive in una grande metropoli europea. In che zona sei te? Milano ovviamente gioca un ruolo fondamentale. Perché a Milano c'è un tipo di tessuto sociale che è anche molto internazionale rispetto ad altre città italiane. È una città dinamica. Offre degli scorci moderni in contrapposizione anche alla sua storia. Quindi c'è un forte contrasto tra antico e moderno. È interessante come i personaggi abbiano un'arena difficile perché è una città che richiede molto a chi ci vive, che si muove veloce. Le location sono state tutte bellissime. Da Parco Sempione a Terrazza Martini. Ecco, Terrazza Martini è stata quella che mi ha colpito di più. Una delle location che mi sono piaciute di più è stato il Bar Basso. Non è stato che ci siamo stati veramente un paio di giorni, però per me aveva questa vibrazione un po' vintage. È una città che mi piace tanto, mi stimola, quindi è stato bellissimo girare qui. È stato bello avere proprio l'ambientazione della storia qui. L'ambientazione milanese ha un peso specifico. È in qualche modo anche un umore, un clima del quale i personaggi si appropriano. Milano diventa quasi un personaggio in sé, un altro personaggio della serie. Fedeltà è una storia italiana perché è ambientata in Italia. Abbiamo parlato di Milano, abbiamo parlato di quanto anche i luoghi siano decisivi per il racconto. Però ciò che racconta è qualcosa che appartiene a qualsiasi latitudine della Terra. Con una modalità di rappresentazione che però non è folcloristica. Non appartiene esclusivamente a queste latitudini. Sono italiani, lo sono fino in fondo, ma hanno un respiro assolutamente internazionale. Grazie a tutti.